la prova ad azionare il pressing, buono comunque il disimpegno di Lopp-Benz prova ad andarsene ancora Panucci, riesce a mantenere in gioco la palla ma viene ostacolato in modo vincente la palla per Friedek, ancora Natviete, attaccato da Donadoni, poi Baresi e beh, che poteva? il calcio di punizione che vedremo tra qualche istante il servizio che vuole a tutti i costi cercare qualcosa di difficile per riabilitarsi di fronte ai tifosi il calcio di punizione a Natviete, attenzione, palla alta sopra la traversa sull'accuso, effettuato dalla formazione dello Sparta nel primo tempo il difensore avversario sì, bravo Albertini, l'idea era sicuramente giusta e anche la forza della palla perché il terreno è bagnato, la palla ha anche guadagnato un calcio di punizione rivediamo ancora il replay di quest'azione, intervento di Costa Curta poi Natviete ha toccato la palla con le mani